È la prima opera d'arte che, in modo inaspettato, torna nella Basilica di Colle Maggio. Il sindaco Pierluigi Biondi e la soprintendente archeologia, belle arti e pesaggi per l'Aquila e il cratele Alessandra Vittorini hanno effettuato la formale restituzione alla comunità aquilana del dipinto raffigurante San Pietro Celestino in veste papale a 18 anni dalla trafugazione. Questa giornata è particolarmente significativa all'indomani dell'annuncio di Papa Francesco della prossima nomina a Cardinale di Monsignor Petrocchi. Forse la riappropriazione dell'opera a Colle Maggio è di buon auspicio anche per il ruolo che esercita la Basilica di Colle Maggio in occasione della prossima perdonanza celestiniana, la prima in cui la Chiesa sarà completamente fruibile e del decennale del terremoto. Ha sottolineato Biondi ringraziando la procura dell'Aquila per le indagini e i carabinieri del comando tutela patrimonio culturale che dopo tre anni di intensa attività investigativa sono riusciti a recuperare l'opera scomparsa nel 2000.